ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video anche in questo video protagonista la nostra lampada da comodino della meros perché protagonista si sto registrando una serie di video in successione perché più andiamo avanti più mi vengono idee per poter sfruttare al meglio anche la luminosità della nostra lampada la luce la possibilità di dimmerarla la possibilità di cambiare colore siccome a casa mia quando mia moglie dice è pronto da mangiare bisogna sguisciare come delle anguille a tavola allora mi è venuta in mente una cosa e di solito io e mia figlia ci mettiamo un tempo un po più lungo ad essere reattivi alziamo con calma andiamo a lavar le mani se insomma passa un po di tempo e mia moglie dice ragazzi allora è pronto poi si raffredda tutto senza entrare troppo nei dettagli di quello che succede a questo punto mi è venuto in mente se io sono in camera da letto magari sto guardando la tele o un video perché non utilizzare la lampada che mi avverte con un lampeggio rosso che mia moglie mi ha detto che è pronto da mangiare ma questa volta con l'ausilio della nostro del nostro dispositivo vocale di amazon potrà essere aiutata nel senso che creeremo una routine dove la lampada lampeggerà ogni 5 secondi di rosso e in più l'assistente vocale dirà a tavola quindi non ci sono più scuse ci dobbiamo sbrigare e andare a tavola scherzi a parte spostiamoci sull'applicazione e vediamo come creare questa routine per prima cosa entriamo nella app del nostro assistente vocale altro routine tasto più in alto a destra nome della routine e la chiamiamo è pronta la cena avanti quando questo accade quindi quando mia moglie dirà nome del dispositivo vocale è pronto partiranno poi tutte le esecuzioni varie adesso andiamo a vedere cosa quindi una volta dato il comando al nostro dispositivo vocale clicchiamo avanti tasto più aggiungi un'azione casa intelligente lampadine comodino avanti imposta colore selezioniamo il rosso salva e in più la luminosità deve essere al massimo tac poi cosa succede non è che deve essere una sola volta rosso fisso quindi facciamo così andiamo giù attendi e attendi 5 secondi che è proprio il minimo avanti ancora più casa intelligente lampadine comodino avanti imposta colore bianco salva e luminosità la mettiamo più bassa circa il 10 per cento avanti spostiamo questa ultima impostazione sotto e poi ancora tasto più casa intelligente lampadine lampadine comodino impostiamo il colore sul rosso e la luminosità al 100 per cento ci aggiungiamo anche il nostro dispositivo che ci dice personalizzato tasto avanti avanti e facciamo salva a questo punto farà solamente un lampeggio dal bianco rosso naturalmente dovete ripetere le fasi di attendi e quello della casa intelligente in modo tale che continuerà a switchare tra bianco e rosso adesso per motivi di tempo ve lo farò solamente una volta e vediamo come viene facciamo salva selezionate il dispositivo dal quale partirà l'annuncio io prendo quello nella zona della notte quindi quello che sentiremo sicuramente anche io e mia figlia adesso vi faccio vedere con il tocco quindi la riproduzione dall'applicazione di come va sentirete anche la voce del nostro assistente vocale e dopo di che daremo il comando per vedere se tutto è andato a buon fine andiamo a cercare la nostra routine eccola qui un po di pazienza e questa è la riproduzione adesso andiamo a fare la prova con il comando vocale se è andato a buon fine come avete visto è abbastanza fastidioso aspettare questo lampeggio però purtroppo è così per adesso alexa è pronto si accende passano i cinque secondi annuncio vocale cambia colore sul bianco tra cinque secondi diventerà rosso e questa è la routine ci è sembrato carino proporvela e potete poi decidere voi come applicarla tante altre routine quindi sbizzarrendosi un po con la fantasia potete crearne veramente tante vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare la lampada della meros e io direi che per questo video tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi